Adammol, abbiamo visto un Umbria che ha giocato bene in alcune parti del gioco. In alcuni momenti, magari avete chiesto un po' l'oponente. Avete finito in un po' di penalti troppo. Cosa pensate di questo primo gioco? Penso che questo succede molto a volte in pre-season. È solo il tempo del gioco. Potremmo entrare in posizione. A volte c'è un po' di stick, un po' di trippi. In alcuni momenti, abbiamo fatto molte cose positive. Abbiamo avuto alcuni signori di cose che vogliamo rinforzare. E poi vedremo dove bisogna migliorare e fare il prossimo passo. Non spavate in Biaskat, questo era il tuo primo gioco per-season. Come ti senti? Mi senti bene. È bello di arrivare alla fine. Adesso ti piace avere il primo gioco. I ragazzi hanno trovato un modo per ottenere il gioco, che è sempre bello. Il primo gioco per noi è il primo gioco per ogni gioco. È trovare un'area dove possiamo migliorare. È quello che stiamo cercando. L'ultima volta che abbiamo parlato, la prima volta che abbiamo parlato, uno dei fondamentali per questa season è che l'Ambric sia più consistente da un gioco per l'altro. C'è quanto è importante per voi iniziare dal primo gioco con il nuovo gioco, con Cosman, per lavorare insieme. Ovviamente il primo gioco è uno dei più divertenti perché tutti hanno il stesso numero di punti e il stesso gioco. Quindi se sei preparato, il meglio che facciate nel campo di training e nel pre-season, ci aiuta a preparare più. Quindi se sei pronto per andare in quel primo gioco, in quel primo gioco, potresti avere un'avventura per l'altro. Io credo che l'Ambric questo anno ha un'avventura balanzata. I top 6 avversi non sono riusciti come erano l'anno precedente. C'è molta competizione. Cosa credo che sia importante per il team avere questo tipo di competizione per riuscire il livello? Io credo che sia bene. C'è ogni volta che hai un'avventura, ogni team, durante il corso della season faceva un'adversità con le due problematiche o con le due problematiche non sapevo cosa avvicinare. E' sempre come un team reagisce. E' un team forte oltremmo? E' un team si tratta di lavorare e creare la chimica che bisognava di riuscire. Quindi credo che la profondità è veramente aiutata. Questo anno abbiamo aggiunto un paio di giocatori che possono dare il team un po' di versatilità. Abbiamo visto in la linea che hai giocato con Lauper e Guggiesberg con un lefty e un righty con due opzioni per il one-timer. Per te, come è importante giocare in un team che ha questo tipo di opzioni? Credo che il più equilibrio ci rende più difficile per altri hanno più giocatori e se tutti sono una un'altra in un'altra 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 che non può fare difficoltà per loro. È un'altra un'altra ragazza di un'altra in un'altra in un'altra in un'altra 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 di un'altra un'altra Non importa se stai oltre o se stai o se stai oltre, se si vuoi qualcosa che ci aiuta aiutare a woni, credo che ci siamo tutti iniziati per questo.